Un programma televisivo giapponese ha rilasciato i titoli e le loro rispettive sinossi degli ultimi cinque episodi della saga di Dragon Ball Super, 127, 128, 129, 130 e 131. Titolo Episodio 127. La redenzione di Freezer. Combattere per quello in cui si crede. La data di messa in onda è l'11 febbraio 2018. Sinossi, qualcosa di strano sta succedendo a Vegeta dopo che questi ha subito uno dei tremendi colpi di topo. C-17 trasforma le proprie batterie di energia in una bomba, ma questa non ha alcun effetto e il suo sacrificio risulta vano. Freezer è turbato dalla perdita dell'unico compagno che non lo giudicava e combatte con tutta la propria forza contro il Dio Toppo. Titolo Episodio 128. L'Onorevole Desiderio di Jiren. L'ardente potere di Goku supera i propri limiti. La data di messa in onda è il 18 febbraio 2018. Sinossi, il Desiderio di Jiren è infine svelato a tutti i presenti presso il Torneo del Potere, e gli dei rimangono senza parole. Ciò nonostante, Goku non si ritira ed attiva nuovamente l'Ultra Istinto, ma questa volta qualcosa sembra diverso. Titolo Episodio 129. Questo è tutto il Potere del Settimo Universo. La data di messa in onda è il 4 marzo 2018. Sinossi, ad un minuto dalla fine, la desolazione attanaglia il team del Settimo Universo, specie ora che Goku e Vegeta sono esausti. A corto di idee, Beerus si rivolge a Shin. Titolo Episodio 130. Ti sconfiggerò e salverò l'intero Universo. La data di messa in onda è il 18 marzo 2018. Sinossi, una corsa contro il tempo. Goku e Vegeta si sono fusi per dar vita a Vegeta. Jiren continua ad accrescere incredibilmente il proprio potere, ma... Titolo Episodio 131. Il sogno di Goku. La data di messa in onda è il 25 marzo 2018. Sinossi, è trascorso del tempo dalla fine del Torneo del Potere. Goku si sta allenando con Goten, quando viene informato che un interessante individuo parteciperà ad un torneo.